La demolizione del monumento dedicato al tenore Mario del Monaco in piazza Borsa è ormai imminente. Il proprietario, l'imprenditore Dioti Salvi Perin, ha ricevuto la chiamata dell'ufficio lavori pubblici del comune di Treviso che chiedeva spiegazione su come il bronzo sia fissato al basamento per capire come procedere alla rimozione. Perin ha messo per iscritto le indicazioni su come evitare che la statua subisca dei danneggiamenti e chiedendo che gli venga recapitata integra il suo stabilimento di Colfosco senza rinunciare inoltre a togliersi qualche sassolino dalla scarpa verso quello che considera l'artefice di questa decisione, l'assessore alla cultura Luciano Franchin, definito un cuore di ghiaccio. Una cosa così non si è mai vista, conclude se non nell'abbattimento di monumenti in piazze di statisti in alcuni paesi del mondo in guerra. Nella Cherelli interviene intanto la nipote di Mario del Monaco, Elisabetta. La posizione della famiglia non è affatto univoca. Se per il padre Claudio il monumento va rimosso, lei la pensa in tutt'altro modo. Non entro nel merito di questa polemica che mi sembra francamente una guerra squallida tra due amministrazioni che si sono succedute e trovo offensiva nei confronti comunque di un artista che ha fatto anche abbastanza nel mondo per questa città e prendo atto alla fine di come vengono spesi i soldi pubblici perché mi consta che ci sia stata una spesa per installarla, ce ne sarà senz'altro una forse maggiore per rimuoverla e non penso che in questo momento anche storico che stiamo vivendo sia il problema principale investire il denaro in questo modo. Quando una cosa è fatta prendiamone atto e finiamola qui.